Mentre la squadra prosegue la preparazione tra piscina e seduta al memmo, il DS Luca Leone è sempre vigile sul mercato per trovare i giusti e necessari rinforzi per centrocampo e attacco. Sul primo fronte piace lo spagnolo Mazza, un classe 93, la passata stagione in forza della regina. Nel Merino c'è anche Roberto Gagliardini, vent'anni, di proprietà dell'Atalanta, l'anno scorso in prestito al Cesena, neopromosso in Serie A. Per l'attacco, altro settore scoperto, sembra oramai addirittura d'arrivo il rientro al lanciano di Mametiam. L'intesa con la Juventus è in arrivo per il classe 91. E invece sfumata la pista Petagna, centravanti della 95 Scuola Milan, passato a Latina, si punta su Giacomo Beretta, classe 92, che nell'ultima stagione ha militato nel Lecce, ma è sempre di proprietà del Milan. Nel Merino c'è anche classe 92 Ernesto Torregrossa del Verona. I contatti tra i due club per impostare il prestito del calciatore sono più che positivi, si vedrà. Infine il tecnico Roberto D'Aversa attende notizie dalla federazione per la deroga necessaria per allenare. Il placet arriverà nelle prossime ore, quindi ci sarà la presentazione ufficiale tra domani o al massimo sabato.